Buongiorno a tutti 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 No Buongiorno a tutti Posso dire che andrà qualcosa in buono fatto? Che ho fatto? Io ho fatto un video. Andare? Hai. Grazie. 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 Per accedermi facendo l'elettronico devo fare con lo speed non può separare lì? Con lo speed sì. E che il codice mi arriva lì in quell'altro telefono? No, anche per messaggio puoi fare. Grazie. 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 Bella. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 No, no, perché poi dopo non ci ho avuto la telega. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti ricordavi? Dai papi? Ecco, come vinto questa battita? Beh, chi ha vinto quindi? Ma lo sto perdendo. Ma dov'è la palla? E' quella che si tocca di qua e di là. Bravo. Grazie. E' a me facciamo la palla? E' a me facciamo la palla? E' a me facciamo la palla? È libero, dammelo. Vuoi trovare te? È libero. E' a me facciamo la palla? E' a me faccio. 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 Grazie.